Buonasera, bentrovati dall'informazione di Antenna 2 TV, nuovo appuntamento con il telegiornale Sparisce dunque, l'avete sentito dai titoli, il liceo tradizionale, al fantone di Clusone Forte concorrenzialità tra gli istituti in seguito alla nuova riforma scolastica Osserva il dirigente scolastico Antonio Savoldelli al microfono di Nicola Andreoletti Il bilancio è abbastanza positivo Nel senso che riconfermiamo sostanzialmente i numeri dell'anno precedente Pure in una situazione di forte concorrenzialità tra gli istituti Che è venuta a crearsi in seguito all'introduzione della riforma scolastica E direi soprattutto per quanto riguarda il liceo scientifico L'apertura del liceo delle scienze applicate presso l'istituto Valle Seriana di Gazzaniga E certo soffriamo anche di un trend negativo delle nascite D'altra parte l'istituto si è mosso per attirare il maggior numero possibile di alunni E infatti ha proposto l'apertura del liceo delle scienze umane Con l'indirizzo socio-economico E questa possibilità è stata accolta dall'utenza molto favorevolmente E infatti abbiamo numeri più che sufficienti per dare inizio a questa classe Un altro aspetto positivo è stato il fatto che il liceo scientifico È stato presentato con una piegatura che vede il rinforzo dell'insegnamento dell'informatica Con due ore settimanali per tutti e cinque gli anni Anche questo è stato accolto con molto favore dall'utenza Tanto è vero che tutti hanno scelto questo tipo di piegatura Per cui il nostro liceo scientifico partirà con questa caratteristica Di fatto sparisce il liceo scientifico tradizionale? Sì, non è che sostanzialmente rimane ovviamente il liceo scientifico voluto dalla riforma Diciamo quello tradizionale Però in quanto la piegatura non snatura Semplicemente focalizza meglio alcuni aspetti relativi all'informatica Che nel percorso voluto dalla riforma pur ci sono Ma non in termini così evidenti e diciamo così anche caratterizzanti Ragionerie turistico come sono andati? Sia la ragioneria sia il turistico sono diciamo così due percorsi più stabili Ormai ci si è stabilizzati su una classe di ragioneria e su due classi di turistico Quindi da questo punto di vista diciamo siamo abbastanza tranquilli Forse il punto più debole si è manifestato nell'iscrizione ai geometri Ma anche questo sapevamo che l'iscrizione a questo istituto diciamo così è un po' ciclica Per cui dopo anni di sviluppo probabilmente adesso si trova in un momento di calo di iscrizioni Tuttavia ci permette comunque di aprire due classi prime per cui il percorso è garantito nella sua stabilità Grazie